Io ho partecipato con la stessa passione e con la stessa curiosità con la quale ho partecipato negli anni precedenti e ci si è visto prima molto di permetto, molto appunto da Metropoli, Festival Metropolitano, anche se il piccoletto di Rotterman è vero, però l'idea di Clima è un grande scambio di idee, di notizie, di gradimento dei film tra la gente che va a vedere.